Quella che vi raccontiamo oggi è una storia di mala sanità, ma non nel modo in cui siamo abituati ad intenderla. Una bambina albanese di 6 anni arriva a Bari all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII perché ha un osteoma ad un'articolazione della gamba. I problemi però cominciano proprio a quel punto. Perché? Sì, incomincio a quel punto perché la bambina non poteva essere operata presso l'ospedaletto pediatrico di Bari perché necessitava di un intervento di termoablazione. Questo intervento di termoablazione era stato individuato, l'unica struttura che poteva farlo è l'oncologico di Bari con l'equip del dottor Gadaleta. Chiaramente l'oncologico di Bari che non tratta un target di bambini perché qui parliamo di una bambina di 6 anni, quindi necessitava di una serie di dispositivi e di presidi proprio per operarla. E si era trovata la soluzione, qual era? Certo, d'accordo di comune accordo tra le due aziende che hanno dialogato, l'oncologico e l'ospedaletto, l'ospedaletto si era impegnato a fornire gratuitamente il materiale di consumo e quindi anche l'anestesista del nostro istituto, del nostro ospedale, aveva dato l'ok sulla fattibilità di questo intervento. E c'era anche il via libera del dottor Gorgoni, no? Certo, dottor Gorgoni che aveva dato l'ok via libera perché già il presidente Emiliano era stato informato anche da noi su questa situazione, aveva preso a cuore il caso della bambina e aveva dato l'ok che fosse operata proprio nel nostro istituto. Tra l'altro istituto che detiene una sala operatoria che fa invidia a tutta Europa. Certo, la nostra sala operatoria insieme a quella di Parigi è la seconda migliore d'Europa. Poi il medico che avrebbe dovuto operare questa bambina, il dottor Gadaleta, è riconosciuto a livello mondiale, possiamo dire che è uno dei migliori su questo tipo di trattamenti e le termoablazioni, quindi la bambina era proprio... Nelle mani più sicure possibili. Sì, riteniamo di sì. E poi cosa è successo? È successo che poi improvvisamente si è interrotto questo dialogo, questa comunicazione che si era instaurata e la bambina, non avendo avuto rassicurazioni, cioè non si era andato avanti con la procedura, è stata costretta a trasferirsi a Roma al bambino Gesù. Con dei costi, immaginiamo, almeno raddoppiati rispetto a quanto sarebbe costato qui, nella regione Puglia. Certo, secondo me il DRG addirittura può essere anche triplicato. Parliamo di un istituto, un ospedale che si trova extra nazione, perché comunque dove è allocato figura come extra nazione. Quindi oggi, secondo me, abbiamo avuto una sconfitta, l'ennesima sconfitta della sanità. Perché? Perché comunque la bambina poteva essere operata in luco. Parliamo di una famiglia straniera e quindi poteva essere operata in luco. Tra l'altro con dei costi, immaginiamo, a Roma notevoli rispetto al mantenimento del periodo di degenza della piccola. Sicuramente, perché i costi poi di alloggio anche della famiglia, non so chi li coprirà e come li copriranno. Comunque ci saranno dei costi e Roma non è come Bari. Quindi ci saranno questi costi aggiuntivi, ci sarà poi appunto il fatto che la bambina poteva essere qui in una struttura super tecnologica e al passo con i tempi. La cosa che, diciamo, ci è strana, ecco, il presidente Emiliano e Gorgoni avevano dato l'ok. Poi c'è stato un dietro fronte. Abbiamo un documento ufficiale che è la lettera del direttore generale del Policlinico, a cui fa capo, lo ricordiamo, il Giovanni XXIII, che ammette la possibilità di poter effettuare l'intervento qui da noi, quindi nella sala operatoria dell'oncologico, però poi dice, di comune accordo con i genitori, la mandiamo al bambino Gesù. È un po' un paradosso. A noi sembrerebbe proprio quello, perché alla fine, se all'inizio la prima scelta era proprio quella dell'oncologico di Bari e quindi si era ritenuto opportuno provvedere a far operare qui, non riusciamo a capire perché questa inversione di rotta. Certo, sembra strano il fatto che sia capitato proprio all'equip del dottor Gadaleta che è quello che ha instaurato un contenzioso con l'oncologico. Speriamo, vogliamo veramente sperare che non sia per quello che non sia stata data a lui la possibilità di operarlo. Io mi auguro, sì, in effetti, come dice lei, è stato instaurato qualche mese fa un contenzioso, però non voglio crederci che sia questo il motivo per il quale la bambina, cioè per beghe interne, chi ci passa, chi ci va di mezzo è la povera gente. Non voglio crederci a questo, ecco. Certo, siamo arrivati al paradosso assoluto. Abbiamo una struttura che spesso è stata accusata di non essere completamente utilizzata, di avere tanti strumenti e poco personale per poterli impiegare questi strumenti. Questa volta che aveva la possibilità di emergere a livello nazionale, in realtà è stata affossata ulteriormente. Mi ha tolto proprio le parole di bocca. Noi infatti ci tenevamo a questo, per dare dimostrazione all'esterno di quello che è l'oncologico. Perché l'oncologico non è solo tutto quello che è trapelato all'esterno, perché l'oncologico è fatto di professionisti con la P maiuscola, di sale operatori all'avanguardia, di attrezzature all'avanguardia. Purtroppo abbiamo vissuto tre anni di gestione aziendale, non secondo noi all'altezza di quelle che erano le aspettative, e quindi era l'occasione buona per rilanciare quella che è la nostra struttura.